Allora, a valle della lunga parentesi sui KPI vorrei riprendere il discorso sul sistema informativi per il management, che sono rappresentati da questo livello, tornando all'inizio, e andiamo a vedere in forma più sommaria, più sintetica, perché su questo non faremo poi degli esercizi, né in laboratorio né all'esame, altre tipologie di sistemi che si usano a questo livello. Ricordiamo da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da questa figura, con tutte le frecce che si incrociavano, ma che alla fine riassumeva il fatto che i sistemi informativi a livello di management devono servire per poter controllare che le cose stiano andando come devono e come è previsto che vadano. Quindi ci sono delle previsioni degli obiettivi e dobbiamo verificare se sono soddisfatti oppure no. Quindi pianificazione e controllo e poi possono permettere, questo ovviamente al di fuori del sistema informativo, nella testa dei manager, di identificare delle azioni correttive o migliorative dei cambiamenti di processo, di costo, di organizzazione o qualunque altro tipo di cambiamento che possa migliorare gli indicatori dell'azienda. Lo rimetto in contesto questo perché dopo che abbiamo ragionato sugli indicatori, che API, come calcolare eccetera, dobbiamo sempre ritornare al punto di partenza. A cosa servono? Non è un esercizio di aritmetica di far uscire i numeri e combinarli. Sono numeri i cui unico, magari no, ma principale scopo è quello di fornire da osservatori del funzionamento di un processo, di uno dei tanti processi dell'azienda. Quindi questa informazione su come sta funzionando, sulle uscite, sui prodotti, sui risultati, è poi utilizzata sia in fase di pianificazione, sia in fase di controllo e quindi poi in fase di adeguamento, di correzione, azioni correttive. Questo è lo scopo di tutto questo lavoro che stiamo facendo. Riuscire a ragionare in termini oggettivi per poter vedere se le cose stanno andando come pianificare. Essere in grande istituto di pianificare. Qui definissi degli obiettivi che siano misurabili. Non vogliamo far meglio dell'anno scorso, bello, ma meglio in che cosa? Come? E quindi ci dotiamo di strumenti di misura e di definizione di indicatori. Tutto il lavoro, la fatica che abbiamo fatto per definire questi indicatori è per essere certi di definire gli indicatori che avessero un senso, che fossero comprensibili, che fossero leggibili. Il livello dei KPI con cui abbiamo iniziato a lavorare è un livello, ci siamo accorti, abbastanza dettagliato, abbastanza approfondito. È il livello in cui, dato un processo, io ho vari stakeholder che circolano intorno a quel processo, che sono interessati al buon esito di quel processo, ma ogni stakeholder ha i suoi punti di vista. Quindi ogni stakeholder vorrebbe esprimere, potrebbe esprimere i propri indicatori di processo, magari anche in contrasto uno con l'altro, poi l'abbiamo visto negli esercizi, e quindi l'insieme di tutti gli indicatori che potrebbero essere espressi da tutti gli stakeholder, nelle varie aree, qualità, servizio, eccetera, efficienza. Per ogni processo immaginate che sono una bella vagonata di numeri e di indicatori, che vanno bene quando uno deve fare controllo a livello di dettaglio, se vogliamo questo livello qui, dove c'è la freccia spessa, ma se volessi ragionare sul ciclo di controllo a un livello più alto, in cui non mi interessa andare a vedere il singolo processo del singolo reparto, come sta funzionando, ma mi interessa avere una visione ancora più riassuntiva, il livello dei KPI è troppo dettagliato, cioè ogni indicatore misura una cosa. Ci siamo già accorti che a volte per capire un fenomeno dovevamo ragionare su due indicatori insieme, per capire dove venivano accumulati degli errori o dei ritardi, ad esempio. Allora, questo per dire che il KPI non è l'unico modo di definire questi indicatori. Vi faccio oggi un flash di due altre tipologie, direi diametralmente opposte, che in qualche modo però rispettano questa filosofia e che possono essere utilizzate, non dico in alternativa, ma in altri ambiti, però sempre a livello di controllo. Più o meno dovremmo essere qua. Allora, primo esempio di una cosa che sembra non c'entra nulla, ma in realtà è un'espressione dello stesso tipo di meccanismo, sono tutti meccanismi di contabilità. C'è la contabilità, cos'è? Cos'altro è se non uno strumento che mi permette di capire quanto sto spendendo rispetto al budget che avevo, rispetto all'obiettivo? Sto spendendo o sto guadagnando? O sto incassando? e me lo dà con dei numeri molto semplici, no? Le varie voci dei capitoli di spesa. Non devo entrare, quegli indicatori sono risultato di operazioni statistiche, sono somme, sono aggregati di molti piccoli movimenti che avvengono ogni giorno, più volte al giorno, a livello operativo, che vengono aggregati in un insieme di numeri ragionevolmente piccolo oppure più dettagliato a seconda del livello a cui si vuole vedere. Io un bilancio lo posso far stare in una pagina mettendo solamente i capitoli, la quadratura complessiva a livello di capitoli, posso invece entrare nel dettaglio andando a vedere le singole voci, i singoli sottocapitoli. quindi questa è una forma altamente strutturata, la contabilità, una forma altamente strutturata di controllo, che ovviamente è molto orientata a un punto di vista, che è quello economico-finanziario. entrate, uscite, ricavi, costi, flussi di cassa e poi eventualmente c'è anche la parte immateriale, c'è gli investimenti e i capitali. Non legata al singolo prodotto ma a dei flussi di cassa esterni. E quando si parla di contabilità in realtà stiamo parlando di due bestie molto diverse. La prima è una roba da commercialista e la seconda è una roba da manager. La prima è la contabilità finanziaria, c'è come la partita doppia e cose simili, c'è come esprimere in un modo estremamente formalizzato e secondo certe normative alcuni dati di sintesi delle aziende. Io non sono capace, vuoi un pochino più di me, ma c'è chi è bravo a prendere il bilancio di un'azienda in mano, gli dà un'occhiata e capisce subito per quanti anni andrà avanti quest'azienda, se è solida, se non è solida, perché sono dei dati sintetici. Ricordate quando si diceva osservare la prestazione di un processo, di un sistema, in questo caso dell'intera azienda, sta andando bene o male? Da quegli indicatori lo posso capire. Una specificità della contabilità finanziaria è che, come dicevo, è tendenzialmente regolata da norme, da leggi, cioè non posso fare come voglio io il bilancio. Se compro qualche cosa, lo devo, o vendo qualche cosa, o faccio un leasing, lo devo iscrivere a bilancio in una maniera ben precisa, affinché poi i risultati di questi, e non creativa come invece è diventato di moda recentemente, in modo che poi i valori che sono scritti di sopra abbiano un significato ben preciso, ben definito, ben normato, addirittura per alcuni tipi di aziende è necessario che questi dati siano pubblici, non solo depositato, ma anche pubblicato il bilancio. Quindi c'è questo metodo molto strutturato, che è comunque un meccanismo di controllo, ma poi c'è la contabilità che ci interessa di più, che è la contabilità di gestione, che è quella interna che serve all'azienda per poter gestire internamente le proprie risorse, che è quella che contiene i budget di spesa o le previsioni di ricavo, magari dei singoli dipartimenti dell'azienda. Nel bilancio non interessa sapere se una certa spesa l'ha fatta uno, l'ha fatta l'altro, lo vedi a livello complessivo, ma internamente per la gestione ti serve sapere chi ce l'ha a questo budget, chi ce l'ha a disposizione, cosa ho deciso di farne, lo sto tenendo da parte per qualche cosa che so che verrà. E mentre la contabilità finanziaria è qualcosa che ci deve accertare di non usare soldi che non abbiamo, perlomeno di essere consapevoli, quindi mi dà la situazione di cassa se vogliamo in tempo reale, ma soprattutto serve per dare una fotografia annuale, alla fine dell'anno chiudo il bilancio, lì ho tutto, lo pubblico una volta all'anno il bilancio, non una volta al mese, anche se in realtà in tempo reale so già degli indicatori, mentre invece la contabilità di gestione è qualcosa su cui lavoro in tempo reale, che in un certo senso prescinde anche da quella finanziaria in termini di tempi. Cioè mentre per il commercialista il 31-12 è la fine del mondo e poi il 1 gennaio c'è il Big Bang e comincia tutto nuovo, per la gestione no, ho un progetto che comincia ottobre e finisce marzo, che di mezzo cambi un numerino che indica l'anno solare, non mi deve interessare. Ma quindi i meccanismi anche di tempo, di aggregazione, sono molto diversi, qui si ragiona più a progetto, a obiettivo, a budget e non necessariamente a trimestre. Poi ovviamente le due cose si incrociano. E se conoscete qualcuno che lavora in qualunque azienda, vi può testimoniare delle follie che si fanno a dicembre, delle assurdità che si fanno a dicembre, delle spese che si rimandano dal 28 dicembre al 3 gennaio. Cerchiamo di tirare avanti con quello che abbiamo, facciamoci prestare qualcosa, così la spesa va a finire sul budget dell'anno prossimo anziché su quello di quest'anno. Ma delle cose mostruose, sia nel pubblico che nel privato. Perché posso dire falsare o soddisfare degli indicatori a livello finanziario, quando sappiamo che poi a livello gestionale non cambia niente. Anzi in realtà sto lavorando male e quindi a livello gestionale sto peggiorando le cose, perché sto perdendo tempo a fare cose che sono subottimali dal punto di vista gestionale per creare degli indicatori finanziari più belli da vedere. Ho risparmiato rispetto all'anno scorso, che bello, sono stato nel budget. Poi a gennaio sforo. Da gennaio a ottobre sono tranquillo, mi preoccupo poi novembre e dicembre. O viceversa. Se ho speso troppo poco, ho prodotto troppo poco, alla fine devo fare qualcosa per forza. Quindi hanno due logiche di funzionamento molto diverse, appunto che tranne a novembre e dicembre dove in realtà si devono incontrare due mondi, tendenzialmente. Oppure le grandi società dove hanno anche le trimestrali. Allora lì è una follia continua. La parte che ci interessa di più ovviamente è quella di contabilità finanziaria, scusatemi, gestionale, nella quale quali sono gli indicatori che andiamo a estrarre? No, qui tutto il discorso che abbiamo fatto sui KPI non c'è più, perché non siamo più nel caso generale o in generale quale aspetto vogliamo misurare del processo. Qui è chiaro, vogliamo misurare l'aspetto economico. Quindi gli indicatori che ci servono sono molto, da un lato più semplici, più definiti e anche più indipendenti dal tipo di processo. Perché alla fine sono dei flussi, ingresso e uscita, che cosa ne fai con quei soldi, non modifica il modo in cui misuri quei soldi. E quindi la contabilità a livello di costi, soprattutto, ma queste cose qui sicuramente le sapete meglio di me, in cui in qualche modo occorre, qui siamo nella contabilità di gestione, non solo quella finanziaria, non mi interessa solo sapere quanto ammontano i costi fissi, quanto sono i costi variabili, in modo da poterli ammortizzare, iscrivere, eccetera. Mi interessa anche relazionarli con la produzione. Se io ho un costo, che ne so, dell'energia di tot, devo riuscire a attribuire questo costo, tracciarlo possibilmente verso i prodotti e i servizi che realizzo. Ho tre prodotti diversi, il costo dell'energia non lo divido per tre. Possibilmente dovrei attribuirlo il più precisamente possibile al singolo prodotto, in modo da poter fare appunto una contabilità di prodotto, di progetto, di servizio, che è l'unica che mi permette di capire, o mi aiuta a capire, se su quel prodotto ci sto perdendo, ci sto guadagnando, e quanto. Quindi sarebbe bello riuscire, sarebbe bello, non sempre si può, riuscire ad attribuire tutti i costi in modo diretto. Produco chiavi, allora in ogni chiave c'è un costo del materiale metallico di cui è fatta, diretto, bello, facile, relativamente facile da stimare. C'è un costo dell'energia, c'è un costo della mano d'opera, c'è un costo di stoccaggio, c'è un costo di trasporto, e beh, questi altri sono un pochino più difficili da ripartire alla singola chiave, per cui spesso vengono tenuti nel mucchio, chiamati costi indiretti. Non è che la segretaria che risponde al telefono, posso dire che questa telefonata, questi cinque minuti ha lavorato per questa chiave, i prossimi cinque minuti ha lavorato per l'altra. Diventa difficile, e comunque lavora per l'azienda, l'azienda produce chiavi, quindi in qualche modo il suo costo è relativo al fatto che sto producendo questo prodotto, ma è difficile relazionarlo in modo diretto. Quindi in qualche caso ci sono dei costi che rimangono indiretti, cioè non riferiti ai singoli prodotti. E in qualche modo se li voglio attribuire, li attribuirò con delle percentuali convenzionali. Li divido a pioggia, li spalmo sui vari tipi di prodotti o altri. E quindi qua devo individuare questo tipo di costi, ovvio dire sono tutti costi indiretti, mettiamo tutto in un calderone unico e poi vediamo, è la cosa più semplice, è anche quella che vi dà il minor controllo ovviamente di gestione. Costa di più, si affatica di più, ne chiede più lavoro a fare una misurazione diretta dei costi. Pensate poi ai costi di risorse umane, quanto tempo lavora ciascuno sulle varie attività, sui vari prodotti. È facile quando ho tipi di lavorazioni che richiedono che persone lavorino, siano dedicate a tempo pieno su singoli progetti o singole attività, ma quando così non è diventa molto difficile andare a attribuire in modo diretto. E quindi si tende altre volte a lasciare le cose indiretti. Ecco l'altra divisione, la grossa divisione dei costi, ma è più facile ovviamente quella tra costi fissi e costi variabili. Cioè il costo fisso è un costo che non è dipendente dai volumi di output tendenzialmente. Quindi che c'è comunque che io non faccia nulla o che lavori molto, quel costo c'è, insomma l'affitto dei locali, gli stipendi del personale fisso, quelli ci sono. Poi ci sono dei costi variabili che sono legati alla produzione, che buona parte dei costi diretti sono di tipo variabile. Se lo posso attribuire al fatto che sto producendo quell'oggetto, vorrà dire che quel costo sarà più alto se di quegli oggetti ne produco di più. Allora questi sono indicatori che trovate, che viaggiano con la stessa logica di tutti gli altri indicatori, sono delle misure più standardizzate, che possono essere usate per il controllo. Per cui sulla base di questi indicatori ci sono tutte delle tecniche gestionali, tecniche di controllo, di gestione, che usano questi indicatori, questi numeri, per poter poi intervenire, pianificare, eccetera, eccetera. Allora la parte economica è quella che si presta più facilmente a essere descritta in termini astratti e quindi definire, se vogliamo, delle tecniche neutre o generiche o che valgono per interi settori aziendali, non necessariamente per il singolo processo della singola azienda. E quindi, anziché andare ad analizzare il problema nel dettaglio, spesso si tende a fare riferimento a tecniche che sono già consolidate, già proposte, già in parte anche implementate dal sistema gestionale. Perché tutto sommato, ad esempio il problema di attribuire i costi indiretti ai prodotti, vabbè, decido un criterio che sia sulla base dei volumi di vendita, sia sulla base unitare, sia sulla base dei metri quadrati di aziende che sono dedicati a varie linee di prodotto e poi lo divido così. E così via. Quindi, dietro a questi indicatori, il lavoro è più facile perché c'è già qualcuno prima di noi che ha definito come calcolare questi indicatori. Poi queste cose le si studiano in contabilità o in controllo di gestione, ma alla fine sono casi particolari del problema più generale della misura del feedback. Vabbè, adesso qui non entro troppo in dettaglio, per ragioni di brevità, non voglio dilungarmi troppo. Una delle tecniche di gestione è quella, qui si chiama activity based costing, quindi di cercare di attribuire i costi alle attività che vengono svolte. Quindi addirittura più di quanto dicevamo prima, quanto mi costa questa chiave. Vado a chiedermi quanto mi costa progettarla, quanto mi costa costruirla, quanto mi costa immagazzinarla, quanto mi costa spedirla, le varie attività, i vari processi, noi li abbiamo chiamati, che avvengono dentro l'azienda e attribuire i costi ai singoli processi. Questo sempre nell'ottica di avere un controllo maggiore. Quindi, da un lato abbiamo un'applicazione dello schema generale della misura del controllo agli aspetti finanziari, che può servire appunto sia dal punto di vista sia dal punto di vista fiscale, quindi rispetto alle normative e pubblicazioni dei bilanci, sia dal punto di vista gestionale interno, che lavora su un numero di valori abbastanza elevato, cioè i numeri, la quantità di numeri che avete scritto in un bilancio è tanta, sono tante pagine, ma predefiniti. Se noi ci muoviamo allo spettro opposto, potremmo avere invece bisogno di una visione molto generale, molto di sintesi, dell'andamento dell'azienda. E questo è dato dal, si può prendere ad esempio, con i cosiddetti fattori critici di successo, i critical success factors. È un altro modo di definire degli indicatori, diverso dai KPI, con uno scopo diverso. Sono tutte applicazioni diverse, come vedete anche molto lontane tra di loro, che ci azzecca alla creazione del bilancio con i KPI che abbiamo fatto ieri. Sono due applicazioni diverse dello stesso framework, diciamo così, matematico, che sta dietro. E se adottano lo stesso framework matematico, uno può anche pensare che gli strumenti software, i sistemi informativi, possono essere gli stessi, possono essere condivisi. Ecco, i CSF sono un altro meccanismo ancora, che però tende a lavorare a un livello più alto. L'idea qual è? L'idea è che l'azienda abbia ovviamente molte sfaccettature, molte attività, ma quelle principali, la ragione d'essere, che permettono di capire se l'azienda funziona o no, sono pochi. pochi macro-indicatori che vanno a misurare le aree che definiscono se l'azienda ha successo oppure meno. che posso definire 10, 20, 50 indicatori, ma di questi tendenzialmente qua si dice, ne bastano 4 o 5, i più importanti, non a caso si chiamano fattori critici, sono quelli discriminanti. Se quelli sono a posto, il resto va avanti, può essere migliorato, può essere limato, può essere più efficiente, può essere controllato meglio, sicuramente. ma se quelli sono a posto siamo contenti, lato semaforo verde. Se invece quelli non sono a posto, allora ci sono dei problemi gravi, anche se tutto il resto funziona a fila liscia, gli altri indicatori filano liscia. Quindi io qui vado a vedere, più che non una vista di processo, quel processo funziona bene, poi posso vedere il processo che funziona benissimo dentro un'azienda che va a catafascio, invece guardo più l'azienda. Questa azienda che cosa fa? Come posso descrivere con 4 o 5 indicatori l'operato complessivo dell'azienda? E questi sono gli indicatori che sono, appunto, questi pochi numeri, dovrebbero essere l'oggetto principale del monitoraggio. Ho pochi numeri, non mi permettono molto di fare controllo, non mi permettono molto di fare gestione. Se un numero va male, da solo il fatto che quel numero vada male non mi dice perché. Devo entrare in un dettaglio maggiore, e allora lì servono poi i KPI, vado a vedere in quali processi sto andando male. Però il primo indicatore, se sta andando bene o sta andando male, me lo possono dare questi. In qualche modo, questi CSF sono rappresentativi in qualche modo degli obiettivi aziendali. Sono delle misure che mi dicono se l'azienda nel suo complesso sta raggiungendo i suoi obiettivi. gli obiettivi li abbiamo anche a livello di processo, dicevamo. A livello di processo posso dire avere un tempo di risposta minore di... ma l'obiettivo generale è... che ne so, avere un... qui dice un market share del 25%. Allora, il market share può essere un fattore critico di successo, un indicatore che vado a monitorare costantemente. se scendo sotto il 20% sono fregato. Quindi, posso avere questi obiettivi che sono relativi, sono misurabili, da un numero molto limitato di fattori. Allora, questi fattori anche qua possono essere definiti a vari livelli. Qui anche qua c'è tutto un framework di cui appunto oggi vi accendo qualcosa che ci insegna come definire questi fattori. Adesso li chiamo fattori anziché ogni volta CSF. Soprattutto che sono alla fine è il loro sostantivo. Posso definire CSF a livello... qui lo chiama corporate, livello più alto, livello aziendale, livello dell'organizzazione. Ricordate che all'inizio dell'anno c'eravamo detti parliamo di organization perché potrebbe essere un'azienda, potrebbe essere un ente, potrebbe essere... la natura giuridica può essere diversa, i ragionamenti che facciamo sono validi comunque. Oppure a livello funzionale, quindi a livello di singola unità organizzativa o funzionale dell'azienda, quindi i CSF della produzione. Anche lì non saranno tanti. La quantità di beni prodotti, la qualità, quindi il numero di resi, il numero di prodotti rifiutati, i costi e i tempi. Vedete, 4-5 non sono troppo pochi per descrivere a livello macro se una certa funzionale dell'azienda sta funzionando o no. e il perché sta funzionando o no che richiede andare a un dettaglio maggiore. Oppure a livello ancora più basso posso andare a misurare, a definire i fattori sui singoli ruoli. Quindi all'interno di quella funzione di produzione o il manager di produzione. Ma se si scende a questo livello si tende a essere diciamo un pochino a uscire quasi dallo spirito del CSF che mi dà pochi numeri per valutare l'insieme dell'azienda. Qui ci sono alcuni esempi di CSF che si possono definire i vari livelli. Qui ad esempio a livello corporate il fattore critico è il riconoscimento del marchio, l'immagine aziendale. Poi va quantificato. uno deve dire che come la misura questa cosa. Però questo è un fattore importante sul mercato. Se non sanno chi sei o se la tua immagine è stata rovinata da una serie di notizie o di avvenimenti che sono successi a giusta ragione può essere chiamato un fattore critico. Se vendo qualche cosa posso avere una rete di distribuzione. funziona non funziona è ampia non è ampia quanto copre il territorio? Una copertura in termini di punti vendita in termini di consegna possiamo anche pensare alla copertura telefonica cioè alla fine qualche cosa che faccia arrivare ciò che sto vendendo prodotto o servizio al cliente. gli altri esempi sono più pensati per l'automotive l'attrezzatura l'affidabilità dei tuoi prodotti la qualità del servizio post vendita questi indicatori di cui sono una manciata per dare un esempio sono globali sono complessivi quando io parlo dell'affidabilità delle auto prodotte che ne so da Volvo sto parlando del marchio non sto dicendo magari anche della percezione di questa misura di affidabilità non sto dicendo non posso dire se quello stabilimento produce auto più affidabili di quell'altro stabilimento a livello corporate non lo so non lo vedo non mi interessa definirlo ma anche perché il mio cliente non ha questa non può andare a ordinare un'auto sì però che sia prodotta in questo stabilimento piuttosto che quell'altro lui associa ad esempio un concetto di affidabilità a un determinato marchio a un determinato produttore identifica la qualità di servizio del produttore con in realtà la qualità di servizio che gli viene offerta dal distributore locale che tra l'altro è un'azienda completamente diversa quindi nonostante un'azienda o un gruppo di aziende abbia una organizzazione anche molto complessa il prodotto in realtà porta un marchio e quindi le qualità l'interazione che ha la percezione che ha il cliente su quel prodotto è quella dell'intera organizzazione aziendale non di un singolo reparto o funzione o sub fornitore poi ovviamente posso definire le stesse cose o qualità analoghe a livello di funzione ad esempio la funzione produttiva o i costi di produzione la qualità del prodotto che ovviamente è legata all'affidabilità però l'affidabilità vista dall'utente è una proprietà globale la qualità o l'affidabilità dei prodotti che escono da quella linea di produzione è un indicatore più specifico che ovviamente avrà una portata minore portata intesa come livello a cui viene vista viene vista dai manager più di produzione e non necessariamente dal marketing ad esempio gli aspetti ambientali quindi l'inquinamento lo consumo di materie prime e cose di questo genere relazioni sindacali eccetera e poi vabbè a livello della singola ruolo può esserci la qualità dei risultati che ottiene in questo caso questo manager relativamente al suo personale relativamente alla sua diciamo così al suo carisma o capacità gestionale eccetera eccetera ecco i livelli più alti questi CSF vedete che in una manciata di numeri siamo riusciti di probabilmente identificare l'80% dell'informazione che mi servono per capire se sono in una situazione critica oppure no e quali sono questi indicatori che possiamo definire e dipendono da che cosa ma possono dipendere anche qua la domanda che mi sto facendo è ma questi indicatori di successo sono sempre gli stessi per tutte le aziende oppure vanno calibrati su misura caso per caso noi abbiamo probabilmente due esempi quelli degli indicatori economici che sono praticamente sempre gli stessi e i KPI che invece bisogna andare a studiare nel dettaglio del processo qui siamo a una via di mezzo possiamo avere dei tipi di indicatori che sono dipendenti dal settore industriale o dal dominio in cui lavora l'azienda per cui ad esempio le aziende del settore metallo-meccanico in certo senso si somigliano tutte indipendentemente poi dal tipo della lavorazione le aziende del settore ICT si somigliano tutte le aziende di servizi si somigliano tutte in termini di quali siano gli indicatori che conviene definire quindi in qualche modo potete anche andare a e questo è quello che fanno poi anche in parte le società di consulenza andare a identificare farvi aiutare a identificare quali siano questi fattori andando a prendere quelli che sono caratteristici del tipo di industria che avete del segmento industriale in cui lavorate questo tra l'altro rende anche confrontabile in certo senso le varie aziende che abbiano certa similarità la stessa cosa possono esserci dei tipi di CSF che dipendono dal tipo di strategia adottata aziende che aggrediscono tra virgolette il mercato in un modo piuttosto che in un modo diverso un'azienda che punta al low cost piuttosto che un'azienda che punti all'high tech hanno strategie diverse allora gli indicatori con cui li vado a misurare sono molto diversi su low cost mi interessano i volumi mi interessa molto andare a monitorare il margine perché sarà piccolo mentre sull'high tech ho grandi margini invece mi interessa molto di più il discorso del brand dell'affidabilità del servizio della qualità dei dealer eccetera mentre invece su low cost so che il mio distributore non lo so che sarà la siniseria di turno che accatasta gli oggetti ma tanto so che il mio cliente li compra per un motivo diverso quindi in funzione anche appunto della strategia aziendale gli indicatori che sono più importanti per capire se il mio successo c'è o no sono molto diversi più in generale l'ambiente l'ambiente inteso come l'ambiente naturale ma anche come il contesto dove lavoro quali sono le aspettative quali sono il tipo di società in cui sono inserito pensate al problema dei cambi io lavoro sul mercato europeo lavoro su un cambio fisso lavoro sul mercato internazionale ho il problema invece degli acquisti delle vendite con dei costi che ne so ad esempio del dollaro che variano di giorno in giorno allora è un problema o non è un problema devo considerarlo oppure no dipende appunto da quale è il mio prodotto e dal fatto che io sia in un ambiente in cui quel problema di cambio esiste oppure no quindi queste sono se vogliamo delle grosse categorie che ci permettono di andare a selezionare quali sono i tipi di indicatori che possono interessarci poi ci sono i problemi con i detti continuosi c'è la risoluzione delle crisi l'azienda magari ha un suo obiettivo e ha degli indicatori che la guidano sul suo obiettivo principale poi può esserci qualche problema o deviazione che si spera sia temporanea un improvviso calo nelle vendite un prodotto mi è uscito male e quindi ha distrutto la confidenza che avevano i miei clienti nel mio prodotto ieri non so perché mi era venuto in mente ricordate la serie A della Mercedes la prima serie la Mercedes è un marchio che è sempre stato molto famoso per la fidabilità dei suoi prodotti robustezza eccetera la prima serie delle vetture le più piccole la serie A e risalto già parecchi anni fa oramai questa cosa aveva un problema di stabilità per cui con una determinata manovra che tanto nessuno avrebbe mai fatto ma faceva parte dei test standard se non sbaglio si chiamava manovra dell'alce o qualcosa di questo genere schivare rapidamente un ostacolo faceva pivot sulla ruota anteriore e si ribaltava aveva il baricentro troppo alto e non so bene l'aspetto meccanico allora quello è un problema il prodotto tutto sommato andava bene il problema risolubile facilmente ma nel momento stesso in cui questo problema è immerso e è finito diciamo così perché il problema non l'hanno scoperto i collaudatori l'hanno scoperto poi le riviste specializzate che hanno provato il mezzo quindi ormai era già in vendita allora lì cosa succede succede che devi hai la tua azienda che magari è solida va bene ma hai un problema che devi gestire allora dici io devo rientrare da questo problema da questa crisi di immagine di identità di affidabilità quello che volete entro due anni allora per questo si chiamano problemi contingenti o temporali perché se tutto va bene rientrano dopo un certo tempo nascono per qualche contingenza per qualche imprevisto e in qualche modo devo dare un piano devo darmi un piano per farli rientrare se qualcuno si ricorda l'evento l'anno dopo un anno e mezzo dopo quando è uscita la serie successiva corretta c'era la pubblicità in cui il magnete catturava l'auto la sollevava e insieme all'auto veniva su anche l'asfalto della strada per dire incollata al terreno questo è stato il messaggio che avevano mandato i pubblicitari i poverini non invidio e quindi in qualche modo poi la cosa si è superata eccetera però vuol dire che per un certo periodo di tempo ci sono dei indicatori se vogliamo aggiuntivi che ci permettono di capire se stiamo in qualche modo prendendo dalla parte giusta risolvendo dalla parte giusta il problema contingente che si è verificato nel definire il CSF ma questo vale un po' in generale per tutti gli indicatori è un discorso che con qualcuno di voi l'ho fatto ieri sui KPI fondamentale ragionare in modo top down cioè chiedermi che cosa mi serve conoscere e non in modo bottom up che cosa sono capace a calcolare che a volte è più facile ti do un dato perché quello ce l'ho pronto ma quel dato non è quello che volevo non è quello che mi serve sì mi dice qualcosa ma mi servirebbe qualcosa di diverso non è facile riuscire a scendere perché non posso neanche chiedere vorrei un'informazione questa informazione non è ottenibile costosissima complicatissima o non è misurabile facilmente quindi devo capire quali sono le informazioni che mi servono e ovviamente avere i dati di supporto che permettono di calcolarlo e questo vale in generale però sia con i CSF sia con i KPI la vera domanda a cui sto rispondendo ricordiamoci sempre il diagramma all'inizio questi numeri a cosa servono per prendere delle decisioni quindi avere un numero che non so che cosa serve semplicemente perché era facile da calcolare ma che non lo so collegare a livello gestionale a una decisione operativa un miglioramento di processo che posso implementare non mi serve è da solo fastidio anzi da un falso controllo un pannello pieno di numeri che nessuno capisce a che cosa servono invece il discorso è contrario prima identifichiamo dovremmo identificare quali sono le quantità che ci interessa tenere sotto controllo e dopo andare a modificare integrare il sistema informativo in modo che mi permetta di estrarre questa quantità no un pochino ce lo siamo chiesti ieri con il KPI dicendo allora questo qui ce l'ho questo dato sì lo posso prendere lì basta aggiungere due o tre somme due o tre contattori nel punto giusto oppure modifico un po' il processo in modo da poterlo ottenere perché se invece partissi da quello che ho già probabilmente non mi serve ecco e anche qui a livello del CSF c'è un processo una metodologia per identificarla questa metodologia prevede un primo passo se vogliamo ad ampio spettro che dice quali sono i possibili CSF le possibili aree da misurare poi però prima di definirlo e questo primo passo scusatemi come dicevo può essere in qualche modo anche replicato da aziende che abbiano lo stesso settore industriale o la stessa strategia o lo stesso ambiente la categoria che dicevamo prima alla fine creano dei gruppi di indicatori che possono essere usati in quel contesto ma poi vanno particolarizzate queste cose questi sono indicatori non sono come indicatori di bilancio che devono essere fatti assolutamente secondo le norme no sono indicatori che devono essere fatti secondo l'utilità che hanno per i manager che li devono osservare e sulla base dei quali devono prendere delle decisioni allora mentre io posso andare aprirmi il libro oppure chiedere alla consulente quali sono i CSF più adatti alle aziende del mio tipo ne identifico 10 15 poi il passaggio successivo logico è quello di andare dal manager che li dovrà leggere e dicendo allora ci sarebbero questi indicatori dal tuo punto di vista che devi gestirli che li dovrai leggere che ne sarai responsabile quali sono quelli più importanti come li adattiamo come li modifichiamo come li limiamo per il tuo nostro caso specifico perché è vero che le aziende metallomeccaniche si somigliano tutte ma somigliarsi non vuol dire essere identiche quindi ho una linea guida e poi però me la vado a specializzare poi una cosa molto interessante invece è poi capire anche la robustezza di questo indicatore spendo soprattutto un po' di tempo su questo perché lo usiamo anche e se vogliamo sono dei ragionamenti che sono utili fare anche a livello di KPI indicatore robusto quando il valore che calcola è significativo di un fenomeno reale dell'azienda e non è suscettibile a fluttuazioni di fenomeni che non sono correlati cioè se quell'indicatore cambia del 10% ogni giorno per via di fattori estranei indicatore ballerino se cambia di poco un fattore esterno se ieri il corriere ha consegnato oppure no perché era festivo o perché aveva bucato una gomma allora quell'indicatore cambia del 10% non è un buon indicatore non è robusto si fa influenzare troppo da fenomeni da dettagli di poca importanza invece deve essere un indicatore che se cambia del 10% significa che c'è un problema serio negativo o positivo oppure qualche cosa da festeggiare non deve essere influenzato da piccoli fattori e poi c'è il quarto punto che dice come li presento questi numeri è un problema di visualizzazione di interfaccia di presentazione di aggiornamento eccetera è un problema poi del sistema informativo che questi numeri li deve anche incazzolare in una forma facilmente comprensibile ecco qui sorvolo un pochino nel senso che non entro nel dettaglio così come siamo entrati nel dettaglio a livello di KPI identificare i CSF candidati innanzitutto mi pongo ai vari livelli o scelgo quale livello mi interessa lavorare e definisco la descrizione di questi fattori un nome il tipo di cui si parlava tipo industria settore ambiente eccetera strategia e quindi qui ci sono alcuni esempi faccio solo dei flash livello di business qui parliamo di dominio di business sono le aziende che sono nello stesso dominio di business quindi hanno lo stesso modello di business in un certo senso ad esempio un costruttore di pc tutti i costruttori di pc avranno come fattore da tenere sotto controllo il costo in particolare il costo sia dei componenti che del personale il costo dei componenti è molto variabile tende a decrescere i componenti tendono a invecchiare molto rapidamente per cui una errata gestione dei costi d'acquisto ti manda fuori fuori dal range utile e così via qui ci sono alcuni esempi che dicevo non voglio entrare nel dettaglio qui c'è un altro esempio molto sintetico se avessimo un ristorante i css potrebbero essere questi quattro soddisfazione degli utenti il market share il ricambio di impiegati e la qualità del cibo e a questi posso associare degli obiettivi di management io voglio che i miei clienti siano soddisfatti almeno l'83% no non soddisfatti estremamente soddisfatti quindi immaginiamoci la solita scala da 1 a 4 vorrei che l'83% votasse 4 o mi desse più di 4 stelle che è ambizioso dipende a che livello sono oggi ovviamente market share ovviamente va definito qui il ristorante l'ha definito come il 20% dei potenziali clienti o delle persone che escono a cena quella sera che abitano in un raggio di 10 miglia sono venute da me ovviamente uno che abita a Singapore che non venga a cena a Torino non deve essere conteggiato quindi share di chi del vicinato posso avere un ricambio di impiegati che non sia superiore al 25% all'anno in modo da mantenere una certa lealtà nei confronti del cliente e non deve succedere più del 5% delle volte 5% mi sembra anche molto alto che un piatto venga rimandato indietro in cucina la mosca nella minestra oppure questa cosa è fredda oppure non è buona eccetera eccetera sono pochi indicatori che coprono le aree principali dei prodotti qui c'è un altro esempio sulle organizzazioni non a scopo di lucro che ovviamente avranno una logica completamente diversa però queste varie associazioni non a scopo di lucro tra di loro si somigliano tutte qui in un certo senso se sono non a scopo di lucro di solito vivranno su donazioni e allora andare a misurare queste donazioni è un parametro comune per tutti e così via ecco quindi andando partendo appunto dai settori dalle strategie eccetera si definiscono questi indicatori macro una prima sgrossata che vanno poi raffinati nel dettaglio qui si dice si vanno a intervistare i manager cioè gli utenti finali di questa parte del sistema informativo e si cerca di definire diciamo 5 qui c'è scritto come numero indicativo indicatori più utili e ovviamente le misure cioè come questi possono essere misurati da dove prendo i dati sulla base di quali li misuro e come interpreto il risultato il rationale il perché il significato di quel numero quello è il punto d'arrivo avere queste definizioni su un numero molto limitato ma appunto selezionato non limitato perché sono i primi 5 che mi sono venuti in mente ma sono il risultato di un processo imbuto in cui vado via via a restringere su quelli che sono i fattori più importanti per me e quindi potrebbe essere una cosa di questo genere ho degli indicatori di costo degli indicatori di qualità gli indicatori di costo sono il costo unitario l'overhead unitario e questi li misuro perché mi servono a valutare la competitività del processo produttivo in questo caso ho una motivazione un razionale che però richiede due numerini per essere valutata l'abbiamo già visto ieri capita spesso perché se prendo un numero solo è facile da non dico da falsare ma da interpretarlo può essere interpretato in modi diversi se ho già due numeri mi descrivono meglio un fenomeno e così via la qualità anche qua ho i difetti di produzione e i difetti riscontrati dopo la vendita quindi che sono sfuggiti ai miei test di qualità in uscita complessivamente mi sono una qualità ma poi internamente sono molto diversi da gestire e così via qui ci sono fatto questa definizione appunto ci chiediamo quell'indicatore che abbiamo definito quanto è robusto quanto è buono quanto è valido quanto è forte ecco queste cinque qualità sono le qualità che dovrebbe avere qualunque indicatore forte la prima è la comprensibilità è un numero che sia difficile da capire non serve a niente magari è preciso calcolato bene ha un suo senso ma per capire che senso ha ci servono tre lauree oppure ogni volta ci devo ripensare perde la sua utilità vi faccio un esempio copiandolo da quello di Torchiano che ha fatto lui che mi ha mi è piaciuto prendiamo che so vogliamo andare a vedere la laurea in ingegneria gestionale se funziona bene no? allora andiamo a vedere voi fate dei questionari e da qualche parte ci sono risultati dei questionari ci sono disponibili corso per corso ma così pubblicamente sul sito sono disponibili a livello dell'intera laurea allora dire che un fattore critico di successo del vostro corso di laurea sia la soddisfazione degli studenti mi sembra il minimo sicuramente uno dei più importanti e però sai c'è una pagina che è lunga otto videate di domande dettagliate con dei puntini con dei grafici come le sintetizzo questi dati? in un numero in un indicatore che mi dica ma si sono soddisfatti o no? qui c'è un numero prendiamo una domanda che abbia senso è interessante capire come queste domande sono tutte carico di studio l'orario le regole coerente c'è nessuno che chieda se questo corso serve a qualcosa vero? guarda i chiarimenti stimola docente docente le ore ecco la 16 sono dovuto arrivare a 16 per avere una domanda che dica qualcosa sono soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento soddisfazione del cliente qui c'è un numero il pigro va a vedere il numero 73% di cosa? quello è un indicatore ha una comprensibilità secondo me abbastanza bassa cos'è questo 73%? allora innanzitutto devo partire da come è fatto questo grafico in cui i pallini rappresentano gli insegnamenti per cui ci sono degli insegnamenti in cui la soddisfazione degli studenti era al 100% altri che erano al 95% questo qui che cautamente questo sito non ci dice quale sia invece ha una percentuale di soddisfazione del 27% con un tasso di risposta del 40% e sentiamo nel dettaglio i dati sono tanti vuol dire che c'è un corso di qualcuno in cui hanno risposto ai questionari 108 persone e la percentuale di soddisfazione complessiva è il 27% questo numero qui che cos'è innanzitutto? questo numero probabilmente è già la media credo che sia definito così come il nulla percentuale di queste 108 schede che ha risposto 3 o 4 nella scala 1,2,3,4 soddisfatto o molto soddisfatto e che vuol dire che il 72,3% 6,2% di schede hanno risposto 1 o 2 non soddisfatto per nulla o poco soddisfatto e questo è il singolo punto questi sono tutti gli insinamenti ordinati in modo decrescente queste soglie sono rispettivamente del un mezzo e due terzi 50% e 66% ma questo numero del 73% sopra la soglia è il punto di intersezione tra questa curva data dai puntini che crescono e la soglia del 66% quindi dice che il 73% degli insegnamenti ha una valutazione degli studenti che per almeno i due terzi è soddisfatto fa un po' venire mal di testa dirlo quindi è un indicatore sicuramente la comprensibilità non è così immediata tra l'altro è una percentuale degli insegnamenti non è la percentuale degli studenti che è soddisfatta ma è la percentuale degli insegnamenti di cui una buona parte degli studenti è soddisfatta stiamo misurando la soddisfazione degli utenti nel fare il corso di laurea? no stiamo misurando qual è la fetta di insegnamenti fatti bene rispetto a quelli fatti male che è diverso quindi non è facile voi pensate di avere in mano quei dati dei questionari e tirare fuori un indicatore che dirica gli studenti sono soddisfatti o no nel corso di laurea non è facile qui hanno fatto il loro meglio per tirare fuori questi dati in modo automatico ma magari se mi servisse quell'indicatore mi verrebbe anche in mente aggiungere una domanda all'inizio di tutte sei soddisfatto? sì o no? e allora mi dà quel dato in modo più comprensibile comprensibilità deve essere quel numero deve essere usato per prendere le decisioni se cambia devo avere la percezione di che cosa significa da un anno all'altro mi aspetto che dal 73 passi al 75 o che passi all'80 quanto varia e per poter rispondere a queste domande devo avere una comprensione anche a livello intuitivo di che cosa significa quel dato se è troppo complicato troppo indiretto costo di elaborazione costo di elaborazione un indicatore possibilmente dovrebbe essere facile da ottenere costare poco non richiedere di andare a casa di tutti uno per uno a chiedere a fare un'intervista di mezz'ora a testa perché in qualche modo se l'indicatore è costoso da ottenere lo otterrò a campione non vado a vedere tutti vado a vedere un campione solamente oppure lo otterrò più di rado anziché per tutti i corsi solo per un corso ogni tanto anziché tutti gli anni un anno ogni tre vi avevo già citato credo una di quali lezioni scorse c'era un'indagine sulla bontà delle scuole secondarie superiori che è costata tantissimo perché fai i questionari anche i dati eccetera eccetera e poi ti dà un risultato a questo punto che è vecchio di tre anni tutto inutile o molto inutile proprio perché è il risultato di un processo molto accurato ma molto costoso prende tempo sicuramente non rifanno tutti gli anni e quindi non ti dà una misura che tu possa utilizzare operativamente una misura è una buona informazione una buona analisi approfondita ma non è un indicatore che puoi usare per fare controllo che puoi usare per dire quest'anno sono andato meglio dell'anno scorso e quindi anche in questo caso non è robusto non è utilizzabile non è forte come indicatore perché non ce l'ho quando ce l'ho ce l'ho a valle di un processo troppo complicato la significatività è di nuovo legato al fatto che questo valore rappresenti qualche cosa di concreto rappresenti effettivamente sia legato direttamente a qualche parametro se vogliamo aziendale la frequenza con cui lo calcolo il fatto di poterlo calcolare con una frequenza che ovviamente è commisurata al processo che sto valutando dicevamo ieri che su molti processi universitari è una cadenza che è l'anno o il semestre non ha senso misurare più frequentemente però se è l'anno o il semestre devo misurarlo una volta all'anno una volta al semestre non una volta in tre anni se invece vuoi qualcosa che è una cadenza settimanale o quotidiana allora devo riuscire a misurarlo con quella frequenza se no perde significato di nuovo quell'indicatore perché viene misurato con una frequenza che è troppo bassa o troppo alta a volte rispetto al fenomeno che sta cercando di misurare e poi il fatto che possa essere un indicatore strutturato cioè con un metodo di calcolo ben definito adesso poi ci sono degli esempi qui spiega un pochino meglio queste cinque definizioni questa tabella ci dà un esempio di un ragionamento che è stato fatto che si può fare con dei numeri che sono indicativi su una stima di robustezza di vari tipi di indicatori io posso avere vari tipi di indicatori e poi mi chiedono questi indicatori qua confronto con i prendo questo che aveva due il confronto con i concorrenti quanto è comprensibile quanto costa quanto è rilevante quanto posso misurarlo frequentemente e così via in questo caso sono stati dati dei voti da 1 a 5 dove 5 era perfetto e 1 era scadente poi qua tanto per avere un'indicazione è stata fatta una media stiamo stiamo progettando quali indicatori usare quindi ragioniamo approfondiamo per capire quali sono quelli più robusti che mi danno un'indicazione più completa più affidabile ad esempio questo quadro confronto con i concorrenti è un indicatore che ha una robustezza molto bassa rispetto all'altro che è invece il costo diretto unitario è chiaro più oggettivo più facile da misurare misurabile con continuità mentre l'altro quindi mi devo anche aspettare se decido di usare questo indicatore che avrà dei ritardi avrà delle imprecisioni molto maggiore che non un altro indicatore che ha invece una robustezza maggiore quindi al di là dei CSF vi dicevo che anche sul discorso dei KPI teniamo a mente queste cinque categorie nel definirlo e poi c'è l'ultimo aspetto che è quello della presentazione cioè questi indicatori in qualche modo devono essere mostrati dicevamo all'inizio sono indicatori che dovrebbero essere sotto controllo continuo quotidiano controllo continuo quotidiano vuol dire che non ti arriva una relazione di 20 pagine o 50 al giorno che devi andarti a leggere spulciare per capire devono essere si parla molto spesso di cruscotti videate che li riassumono tutti e che a colpo d'occhio ti facciano vedere oggi, ieri un mese fa un anno fa dei cinque indicatori che hai scelto quindi anche come visualizzarli come calcolarli come veicolarli questi indicatori sono grafici lancette numeri questo diventa quasi un problema diventa un problema che è a cavallo tra ovviamente la protettazione del sistema informativo che raccoglie questi dati li calcola e anche poi soprattutto un problema di interfaccia di visualizzazione soprattutto il criterio 1 la comprensibilità se il dato in sé sarebbe comprensibile ma come lo faccio vedere non si capisce se definisco un dato che è un range da 0 a 100 con ad esempio una levetta tipo un indicatore di benzina vuoto pieno può essere un buon modo una lancetta che va nel verde o va nel rosso a seconda che l'indicatore sia alto o basso in astratto può essere un buon modo ma se poi nel concreto questo indicatore oscilla nella mia azienda tra il 73 e il 75% e quelle oscillazioni magari sono significative a livello di la mia bella lancetta sembra ferma lì sui tre quarti balla un pochino ma non mi dà la percezione che le cose stanno variando in più o in meno non devo scegliere il modo di visualizzazione proprio conoscendo qual è la dinamica di quell'indicatore lì è interessante i valori di oggi o sono interessanti anche i valori passati allora se sono interessanti anche i valori passati ti faccio vedere un pezzo di grafico se interessanti sono i valori di oggi c'è con l'evidenza e altro mi vengono in mente a volte si vedono quei grossi pannelli informativi che ci sono nelle aziende penso a Manifatturiero oggi abbiamo prodotto tot pezzi la media dell'ultima settimana il numero di giorni senza incidenti o cose di questo genere 3-4 numeri molto grossi visibili da tutti aggiornati in tempo reale quello è qualche cosa tra l'altro con delle unità di misura molto facili da comprendere possono anche essere ricordati il mese scorso com'era però è il risultato di una progettazione scegliere quali valori e come mostrarli non è casuale non è casuale ok io qua mi fermerei su questo capitolo è ora dell'intervallo poi più avanti invece andiamo a riprendere un altro argomento più di panoramica sui sistemi informativi in generale però prima facciamo la solita pausa a caffè grazie a tutti